Ma dobbiamo fare un silenzio per i nostri fratelli e la nostra sorella che muore nella mare. Ma è il momento di silenzio per loro. È il momento di silenzio per i nostri fratelli e sorelle che muore. Un momento di silenzio. Un minuto. Ok, grazie. Grazie mille. Sono rute. Sono rute per il movimento di immigrante e raffodato della donna e la poli. È la rute e la poli. È la rute. Allora. Noi qua ci siamo. Le donne e le relazioni e le comunità e le LGBT. Siamo qua perché siamo in unità. Siamo qua perché loro, le governo, pensano che noi è invisibile. Siamo qua per dire a loro che non è invisibile. Siamo in silenzio. Da tanti anni fa, le governo, siamo state in silenzio. Noi siamo qua. In unità per dire a loro che noi non abbiamo il valore. siamo in silenzio. Siamo invisibile. Sorella, are we visible? Yeah! Are we visible? Yeah! We are not to tell them. That we are visible. We are visible. That is where we are. Allora, abbiamo soffrendo le passe della mare. Abbiamo venuto con le passeglarie nella nostra cuore. Quindi siamo qua per dire ci frutti della strada, ci frutti della mare, ci frutti dell'istorante, ci frutti di campagna, ci frutti di lavoro. Quindi dobbiamo dire basta, dobbiamo dire un grande top, dobbiamo dire a loro che noi, le donne, le comunità e le giudizi, hanno il valore. Dobbiamo dire a loro che noi esistono, noi esistono, noi non paura di loro, se loro dire che hanno paura di loro, loro devono capire che noi non paura di loro, loro devono capire che noi non paura di loro. Non paura di loro. Non paura di loro. Non paura di loro, non paura di loro, loro devono capire che noi non paura di loro. Un paura di loro. Loro, devo sapere una cosa, questo decreto, se loro non hanno cancellato questo decreto, questi moviment, queste manifestazioni, continuare, non spenderare, fino a quando loroúsica,. Questo paese, questo in Italia non avrà pace. Dobbiamo continuare a protestare. Dobbiamo continuare a manifestare. Quindi questo decreto accoppierà a dire basta, non essere pace in questo paese. Quindi, questo qua non finirà mai qua. Continuare quando finirà mai. Grazie a tutti.